salve a tutti ragazzi e ragazze sono al snake stand 2 bentornati e bentornate sul games channel allora chiedo subito scusa a tutti voi chiedo scusa anche ai nuovi iscritti magari quelli che vedranno questo video come primo video inerente al mio canale io non faccio questo genere di video non ho mai fatti vi chiedo scusa veramente non non c'entra niente con me però mi sento in dovere un attimo di fare un video risposta a vari commenti che mi sono arrivati sotto all'ultimo video e anche in privato su facebook proprio ho necessità ho voglia apro una palendesi veloce faccio scorrere nel frattempo un video c'è un gameplay di test legend dove mi sono divertito a sfidare joker c'è un ragazzo che ormai conoscete benissimo che mi segue da tanto e potete apprezzare al meglio la mia scarsezza e inettitudine riguardante questo gioco di carte inerente a test davvero scarsissimo comunque il video è lì gustatevelo nel frattempo io ci parlerò sopra quindi non è che gioco in diretta ok allora sotto all'ultimo video e in privato mi è stato detto tu fai questo video soltanto per accalappiare views e iscritti per guadagnarci dei soldi facili quindi sono money grabber stai facendo disinformazione stai mancando di rispetto a tutti quelli che ti seguono e così via allora uno l'ho bannato perché è stato abbastanza aggressivo e maleducato e a me la maleducazione cioè mi fa imbestialire divento Hannibal Lecter cioè è uguale la trasformazione che è il mio volto cioè è palese e purtroppo poi penso quasi tutto al giorno a quella roba quindi non riesco a trascurarla ragazzi è per questo che faccio questo video ma è perché spesso su internet quando magari un'informazione errata viene spacciata come verità poi magari può diventare non dico virale perché sono una piccolissima realtà ma può essere condivisa da altri ed altri possono avere un'idea sbagliata di me e qui non voglio questo è per questo motivo che sto facendo questo video qua ok tra l'altro il titolo di questo video non c'entrerà niente con questo discorso ed è tutto forché clickbait perché di sicuro un titolo scritto come sfogo e altro avrebbe fatte molte più views più avrebbe avuto molte più attenzioni invece ho scritto test legend e qualcosa su xorin credo ok quindi chi ha voglia di vedere questo video si imbatterà in questo ma anche in test legend non sto ingannando nessuno anzi non sto sfruttando questo mio sfogo chiamiamolo così non è sfogo è chiarire alcune cose allora perché ho aperto questo canale io nel 2014 ottobre ho aperto questo canale perché volevo parlare con altri appassionati di test per discutere della lore l'ho fatto per questo motivo qua se avessi aperto un canale inerente a metal gear che la mia saga preferita avrei basato il canale sulla discussione inerente all'universo di metal gear se avessi aperto un canale inerente alla mitologia avrei basato quel canale sulla discussione intorno ai miti cioè tutte passioni che ho perché questo è per me youtube io ci guadagno a youtube è vero è bellissima questa cosa youtube mi dà la possibilità di guadagnare in modo totalmente gratuito dei soldini e non è che sto a chiedere a voi o datemi soldi nessuno vi forza nessuno vi chiede niente l'unica cosa che dovete tollerare sono al massimo 5 secondi di pubblicità che partono all'inizio del video o che appaiono a metà video e non so come gestirle quelle pubblicità quando capirò quelle al centro le vorrò eliminare sinceramente ancora non ho capito io ho messo la spunta che parte inizio video alla fine non lo so magari se c'è qualcuno che le capisce informatemi ok quindi è bellissimo guadagnare da una passione io al momento in questi due anni che ho la monetizzazione attivato guadagnano 150 euro fantastico ma sapete quanti ne ho persi per essere qui su youtube all'inizio ero partito con un microfono da un euro 80 da 8 euro e 90 della trust o trust e una webcam microsoft di 18 euro e 90 quindi con 26 e 27 euro scarsi avevo iniziato la mia carriera su youtube dopodiché davvero era fastidiosissimo il sonoro della mia voce e anche la qualità comunque dell'immagine e ho deciso di spenderci dei soldi ora io non ho avuto in questi anni un lavoro fisso non ho avuto uno stipendio normale di 1000 euro 1200 euro mai in questi tre anni mi sono sempre adatto a fare di lavoretti mi hanno sempre occupato un mondo di tempo ma ho guadagnato davvero poco davvero vabbè non vi sto a dire queste cose sono fatti miei però sono stati mesi che non guadagnano niente devo recuperare i soldi di altri lavori del passato perché diciamo per cinque sei anni sono stato ampiamente sfruttato ora quindi tutto ciò che ho speso l'ho speso in maniera abbastanza un po' stupida perché potevo risparmiare di quei soldi visto che non è un lavoro fisso per youtube perché mi piace allora vi dico subito ho speso 600 700 euro di pc perché il mio era completamente morto non ce la faceva più ho detto una volta che faccio la spesa la voglio fare bene perché non voglio che poi mi capita altri problemi fra uno o due anni voglio che mi cambi parecchio questo pc ok poi ho speso 70 euro di microfono 120 euro di game capture per registrare i video da console la webcam invece ce l'ho a scrocco da un mio amico ho avuto a scrocco anche la scheda video per mesi e mesi adesso finalmente sono riuscito a comprarmela ok c'è quindi ci sto rimettendo parecchio per quanto riguarda youtube ma sto sotto di brutto ok quindi non è un fattore economico youtube per quanto mi riguarda sarebbe bello guadagnarci 1000 euro 2000 euro ma anche 200 euro al mese da youtube ma non è questa la mia realtà io sono una piccolissima realtà all'interno di questo grande sito diciamo secondo i canoni io mi 2.000 persone iscritte per me era qualcosa di incredibile io mi immagino sempre 2.000 persone davanti a me io ogni sera è a tremare dall'emozione poi la realtà è un'altra cosa io avrò penso intorno ai 500 di iscritti diciamo fissi in base alle visibili perché è sempre così in genere si fa sempre un quarto di quello che hai è una regola ormai perché poi li perdi giustamente la gente si annoia comunque si annoia di youtube di te così via no di quello che fai e va bene però per me sono tanti e ho avuto sempre cioè io non so come dirvelo c'è proprio mi emoziono anche a dirlo c'è ho avuto sempre un gran bene a tutti quelli che sono stati sul mio canale ho discusso con loro per mesi molti di loro li conosco bene a volte qualcuno mi dice anche della sua vita privata di quello che ha fatto la mattina la sera di quello che studia cosa fa nel proprio nella vita cosa dove lavora eccetera eccetera non mi sognerei mai di ingannare certa gente ma poi a che pro a che pro dovrei farlo perché questo mi è stato detto io inganno i miei iscritti perché approfitto approfitto di loro quando ho letto che io faccio disinformazione stamattina mi sono un attimo preoccupato ma perché è stato lì non tutto una reazione spontanea mi sono preoccupato per circa un minuto mi sono mi sono proprio agitato anche perché il video prima di quello ho parlato della conferenza pedesda e io vi ho detto ragazzi non dovete mai credere ciecamente a noi youtuber oppure a quello che leggete nei siti videoludici perché a volte scambiano una fake news per una verità assoluta andate a ricercare voi stessi quando non leggete le fonti quando vi puzza qualcosa ora dopo una discussione del genere sarebbe stato davvero degradante cioè mi sarebbe riuscita da morire se avessi fatto lo stesso errore no ok quindi appena letto quel commento mi sono agitato ma poi ho detto ma scusa io ho verificato ho visto che la maggior parte dei siti non solo italiani ma anche americani e inglesi ne parlavano ovvero a ins dice di al di al des cross 6 non è ancora in sviluppo cioè non è che lo diceva soltanto quel sito every eye tra l'altro dove vabbè non dico niente ok non è solo loro ma molti altri ma questa news diciamo questa intervista c'era modo di visionarla sì perché heinz lo ha rivelato ai microfoni davanti al giornalista di game trailer che adesso non ricordo mai la pronuncia come jeff kygli una cosa del genere ok c'è lui fa uno show poste 3 dove parla con gli sviluppatori tra cui come ospite c'era anche heinz e lui lì ha risposto alla domanda del giornalista dicendo quelle parole quindi è una news ufficiale da parte di uno degli più importanti capi di bedesda fatta il 13 giugno perché mi si diceva che quella notizia era di un anno fa e passa capita è vero capita che spesso prendono notizie vecchie e vengono spacciate per nuove ma non è questo il caso non mi permetterei mai di fregarvi in questo modo di essere così fessacchiotto di non andare a verificare non lo farò mai anche perché ho passato due anni a fare il news proprio per un sito per un sito internet e non è che voglio vantarmi di questo ma per due anni di fila sono stato eletto come milione user perché poi lì per invogliarci insomma per lavorare più seriamente con passione c'erano anche questi premi a queste votazioni che venivano fatte anche dal pubblico e anche da chi ci lavorava e a me mi hanno eletto per due anni di fila perché questo perché ho sempre verificato e non ho mai una volta mai sgarrato una non ho preso mai una bufala cioè non mai quindi quando ho letto questo mi sono rimasto male pensando poi al fatto che io stessi ingannando voi che voglio il bene dell'anima sinceramente una delle prime cose che faccio quando ho tempo è venire a leggere i vostri commenti cioè io ho basato gli ultimi due anni davvero davvero non a leggere libri oppure giocando i miei giochi preferiti a fare qualche viaggio spesso ho basato il mio tempo totalmente a stare qui davanti al pc e a giocare a Skyrim perché poi mi piaceva sapere cosa voi ne pensavaste del video in sé ma per avere una discussione bella con voi quindi questo è stato proprio un problema un colpo basso lo dico chiaramente poi il titolo mi spiegate parlo sempre ovviamente a loro mi spiegate cosa dovevo scriverci la notizia qual era la notizia era tessi se non è ancora in sviluppo cioè ho scritto il titolo più realistico e coerente relativo alla news cioè quello ho scritto non è che ho scritto The Elder Scrolls 6 aprite il video per saperne di più no ho scritto esattamente quello che diceva la news uno potrebbe anche non aprirlo perché era quella la verità non c'era un punto interrogativo no quello è perché il titolo è sbagliato è talmente è talmente una bestemmia scrivere The Elder Scrolls 6 nel titolo è talmente sbagliato è talmente da money grabber no come lo devo chiamare Skyrim 2 lo devo chiamare che è di un'ignoranza pazzesca come devo chiamarlo il nuovo test come ditemelo ditemelo non lo so a carappia scritti a carappia view allora io non ho mai mai una volta spammato mai anzi ho sempre argomentato ho sempre no perché poi la delle volte poi ti nervosisci dipende dallo spammer in questione ma quando qualcuno mi spamma io gli dico guarda che non serve fare questo perché poi avrai tutti fake iscritti cioè si iscrivono perché tu gliel'hai chiesto ma non ti vedanno mai il video questo è l'ho sempre detto da quando sono piccino piccino sempre l'unica cosa che a me mi sta agevolando ultimamente è perché ho 3-4 ragazzi che mi hanno spammato sulla pagina di facebook di Skyrim Italia ma io non gli ho chiesto mai niente a loro cioè penso che possano confermare anzi Xorin è stato talmente gentile che mi ha detto guarda spammati fatti conoscere che ci saranno tanti altri ragazzi che gli piacerebbe guardare i tuoi video e approfondire la lore ma io proprio non ce la faccio mi vergogno è il carattere mio che è così non che poi è sbagliato lo spam se fatto in modo intelligente tipo su un sito del genere di appassionati di Skyrim magari anche dicendo ragazzi se avete voglia venite a guardare il mio video magari possiamo discutere insieme insieme magari fatto così io non ci vedo non è male è lo spam cretino che odio oppure il titolo davvero ingannevole che non sopporto però a me mi sta mi si sta dicendo che io faccio proprio in quel modo quando io ho sempre combattuto contro questo modo di essere non lo so però secondo me è ingiusto è ingiusto e come me anche molti altri su youtube vengono massacrati senza motivo ora a me sono stati 5 messaggi che a me mi fanno innervosire perché per me dichiarano il falso non posso immaginare magari quelli che ne dicevano centinaio di ogni giorno allora parlano sempre dei titoli io spesso ho avuto la possibilità di mettere i titoli efficaci non clickbait ma facilmente ritrovabili sul motore di ricerca di youtube rimanendo poi inerente coerente magari con la puntata di scari ma spesso ho messo titoli inerenti al mio personaggio proprio i titoli più anti clickbait della storia per esempio prendete xcom xcom dei titoli cretini ma perché mi piacciono ad esempio non lo so i titoli per esempio efficaci sono tipo la confraterna di oscura tipo dragonborn delle volte l'ho messo tipo namira i nomini dei daedra ma questi non sono clickbait questi sono facilmente ritrovabili ma sempre inerenti al gioco io non mi sento mai di avervi ingannato sotto questo punto di vista in tre occasioni ho fatto all'interno della serie di skyrim tre video tre gameplay di oblivion ok il titolo è skyrim ita e avete trovato oblivion ma non è perché volevo ingannarvi perché semplicemente oblivion il personaggio di oblivion è coerente con la storia del mio personaggio uno due volevo anche sorprendervi meravigliarvi tra di voi ci sono gente come me nostalgica di oblivion che magari gli avrebbe fatto piacere vedessi di colpo oblivion lì anziché skyrim anche perché ho fatto 100 più di 160 episodi quindi una cosa che non ti aspetti magari può far piacere non lo so non lo so io non so che dire mi fanno cadere le braccia lo dico semplicemente certi commenti mi mi spiazzano mi deludono anche perché detti con tale arroganza e maleducazione ripeto è qualcosa che non tollero io non tollero mai sono intervenuto tante volte anche sotto i video di altri ragazzi o ragazze che venivano offese senza senso è una cosa cioè mi fa mi fa scattare tra i bannati che ho tra l'altro non è perché hanno offeso me o hanno aggredito me la maggior parte dei bannati è perché sono comportati in modo maleducato ed eccessivo nei confronti di voi nei miei riguardi il più delle volte io tollero tollero ma quando magari qualcuno aggredisce voi proprio lì non ci sto perché non ha senso parliamo anche di videogiochi rispondere in maniera maleducata e offensiva è da cretini e ignoranti per me questi qua vanno estirpati da internet proprio non ci devono essere proprio è intollerabile ok quindi scatto queste cose mi fanno scattare davvero sono peggio di di Saba con Ulfric quando parli di Mane dei Nord questa è una battuta ovviamente non è vero ecco per esempio Saba ha un modo suo di criticare a volte sembra eccessivo ma io so che lui enfatizza molto e ha un modo di scrivere così io so che lui non offende mai la mia persona lui mi segue da tempo lui apprezza come gioco poi faccio le cazzate e lui le le scrive in maniera sua ma non è mai offensivo verso di me lui ha massimo critica e ci scherzo anche privatamente e quella è un'altra cosa e quella è ben accetta anzi ho sempre accettato le vostre critiche e i vostri consigli però queste no no queste no davvero non faccio apparire i nomi perché non me ne va non me ne va neanche a ritagliare le cose però sarebbe da appendere questi qua che mi hanno scritto tutte queste robacce e farvi vedere non perché dovete andare poi a offenderli ma perché dovete dovete ignorarli divendo cattivissimo comunque spero che sia stato chiaro ma sono sto nervoso adesso e che il video vi sia piaciuto nel senso del gameplay avete visto che massacro mamma mia che schifezza ciao ragazzi